La Federazione Piemontese dell'AICRE con l'Associazione Culturale di Alexis e il Consiglio Regionale hanno svolto a Palazzo Lascaris l'incontro per un'agenda digitale alpina e un e-publishing europeo. L'iniziativa intende promuovere un'ampia discussione tra enti per approfondire le strategie dell'Unione Europea e della macro-regione alpina in vista della 13. conferenza delle Alpi del 21 novembre.